Dopo l'annuncio dato qualche tempo fa con la presentazione del progetto Spazio Hub promosso e lanciato con il sostegno di Confartigianato Vicenza e del Comune di Vicenza, il percorso prende ufficialmente il via. L'iniziativa ha visto un ampio numero di adesioni da parte di giovani tra i 23 e i 33 anni che hanno messo in gioco le proprie idee e le proprie competenze per riuscire a superare l'iniziale fase selettiva. Il percorso punterà ora sul cercare di orientare, accompagnare e facilitare lo sviluppo degli spunti forniti nella prima fase per dare una forma concreta a misura di impresa a ciascuna idea imprenditoriale. Nicola Cavazzon, Vice Presidente Movimento Giovani Confartigianato Vicenza. Abbiamo presentato oggi questa nuova iniziativa che ci vede coinvolti in prima linea come Confartigianato Vicenza assieme a Spazio Hub, un progetto che ha coinvolto inizialmente 40 giovani aspiranti imprenditori maschi e femmine. Siamo arrivati a definirne 18 dopo una serie di colloqui individuali per capire le potenzialità e le progettualità di questi nuovi aspiranti imprenditori. Sono già partiti quindi in questi giorni 18 aspiranti giovani imprenditori che si metteranno in gioco per comprendere e per avere le motivazioni giuste e capire quale sarà il loro progetto di impresa, coadiuvati e affiancati dai nostri esperti tecnici di confartigianato. Il progetto vertirà e si snoderà lungo i prossimi tre mesi in una serie di incontri e ci auguriamo di poter avere in futuro, in un futuro non così lontano, dei giovani imprenditori che potranno dare il loro contributo a questo territorio per la provincia. Lodevole, la determinazione e l'entusiasmo nei tanti partecipanti al progetto, commenta Jacopo Maltauro, consigliere con delega alle politiche giovanili del Comune di Vicenza, soprattutto per l'opportunità che stiamo offrendo a questi giovani di vedere possibile un futuro imprenditoriale che sia radicato nel territorio vicentino. Qualche mese fa abbiamo lanciato Spazio Hub, un progetto creato da Confartigianato Vicenza assieme al Comune di Vicenza, alle politiche giovanili, è volto a dare una risposta precisa e puntuale al panorama giovanile e all'autoimprenditorialità dei giovani vicentini. È fondamentale oggi più che mai, in un periodo di incertezza e di non programmazione, dare un po' di ottimismo, un po' di fiducia a un futuro tutto vicentino.